Sono 380 le domande di iscrizione alle scuole per l'infanzia comunali che apriranno i battenti domani, 1 settembre, 6 in più dello scorso anno scolastico. Quest'anno, come sempre, l'amministrazione non ha previsto il pagamento di una retta mensile per il funzionamento della scuola, ma solo una quota di compartecipazione relativa al servizio di ristorazione. Complessivamente saranno inseriti 106 nuovi bambini. Dal 1 settembre al 31 ottobre saranno di nuovo aperte le iscrizioni e i nidi comunali per completare la seconda graduatoria. Gli iscritti potranno iniziare gli inserimenti dalla fine del mese di novembre. Si conferma il trend negativo delle famiglie che optano per una frequenza settimanale di soli 3 giorni, così come quelle che scelgono di non usufruire del pasto. Il personale degli asili nido è composto da 26 insegnanti in sezione, di cui 17 a tempo indeterminato e 9 a tempo determinato, ai quali si aggiungono due insegnanti di sostegno a tempo determinato e due incarichi per sostituzioni malattie. Lo staff dei servizi educativi comprende poi 38 cuocchi, addetti alle cucine e personali di pulizia e 20 addetti alle pulizie provenienti dalla ditta in appalto. Insomma, buona scuola ragazzi!